Partito Democratico in Capitanata, come vive? Cosa ha in mente di fare? Ovviamente ci si presenta anche alle prossime elezioni, bisognerà lavorare già per le prossime europee, ma anche in grossi comuni come Foggia. Il Partito Democratico in Capitanata, prima ancora delle elezioni, aveva già fatto un'operazione attraverso un congresso di definizione di una classe dirigente, aveva già individuato una nuova leadership, giovane, una donna, ha cambiato gli organismi, una segreteria nuova al passo coi tempi, aveva già fatto uno sforzo, chiamiamolo così, di rigenerazione che io spero possa dare i frutti che tutti quanti crediamo possa dare, anche alla luce di quello che è successo, per fortuna ce l'avamo portati avanti con il lavoro.